Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Non pensavo fosse così trasparente se lo strecciavo perché non l'ho mai fatto Vi ho raccontato che devo fare un lavoro per Airbnb e mi avete cazziato a merda perché mi pagano inexperience e soldi Airbnb Vi ricordate sta cosa? Eh? Ti stai auto facendo fregare? No secondo me ci sta Perché mi chiedono un reel e due storie Secondo me ci sta Non è uno scam Meritato il cazzetone Va bene È successa quest'altra cosa No, ha freddo un attimo Volete sapere quanto è costato? Vi dirò la marca Vi dirò la marca È del brand di Kim Kardashian Skims Perché sto vestito raga compare Ma c'era raga dove guarda Prima non ero user alla porta Secondo me prima abbiamo vinto a caso Cioè dovevamo essere morti Abbiamo sbloccato tutti i trofei Ho visto? Però non ero io che usavo la torcia Quando ho fatto così Eh no ho capito Infatti io provavo ad accenderlo Ok già questa è stata più bellina Ma comunque non abbastanza da farvi dire Ne faccio un'altra Aspetta che voglio È questa Che altro stava di? Siamo passati da Ghiacciolia Da Caso a Silent Hill Quindi c'ho questa mezza idea Per una cosa che vorrei fare E basta Basta anche perché A farlo per i cazzi miei È il solito discorso Io horrori non li gioco Cioè in quest'anno come vi dicevo Non ho giocato a mezzo horror Ma mezzo che fosse mezzo Non ce la faccio Da sola non ce la faccio Per caso conosci i tatuatori bravi a Pavia No Io Ma perché io Soul non vado per città Vado per tatuatore Non ho fatto taglia Perché qua fa vedere la differenza Fra osta e gambe effettivamente no? Non dovrebbe farlo giusto? Se esce pure No Non lo so Sempre un video investimento Per carità Ma infatti ripeto Ho preso tutte queste cose Sia per curiosità mia Sia per carità Ve lo faccio vedere Ve lo faccio vedere Perché non voglio che si veda Non so se si vede sedere con questi pantaloni Aspetta Ma che fa? Cammino all'indietro per non far vedere le sedere che non si sa mai Ho costruito questi È stato estremamente comune Cosa? Non lo so Allora Allora aspetta Infatti aspetta In difesa di questo vestito Il materiale è ottimo In difesa di questo vestito È leggerissimo È morbidosissimo È veramente wow No te lo giuro Giorgia È veramente Cioè non lo so Ve lo faccio vedere No Non so se la ragazzana Non so se vuole trasferente Comunque è veramente ottimo Una volta l'ho fatto con una ragazza lesbica Tra l'altro mia amica E E Lei Non Aveva mai fatto sesso con un maschio effettivamente Ma con la sua compagna sì Usando anche di finti eccetera E È andata bene L'unica cosa Che lo prendeva tanto dal basso Cioè nel senso Non toccarmi Volevo usare il tuo braccio Vai No fa niente Lo afferrava molto da sotto E poi andava verso l'alto E quindi faceva un po' male perché effettivamente tirava la pelle E invece di partire dal sopra Era partita dal sopra E faceva così non qua Faceva così Invece di fare così Capisci? Esatto 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 Esattamente Fa male? Fa male però una volta che tu No secondo me fa schifo anche la Fa talmente schifo la marena Che anche se stava fico in culo Fa schifo secondo me Anice maggiore menta Simo ma che cazzo di problemi avete Porca puttana Ma io raga avevo detto che tu ci fa schifo eh E avevo detto Detto ciò Il bello E questo non lo sapete perché Già i figli di satana tolgono la marena And che Già che è un nome così Palese a marena lover comunque eh Già che ti chiami Normalissimo eh Normalissimo E tipo spiegano anche volendolo Può indossare in diversi modi Perché tipo fai così Fai Tutte queste stronzatine qua Quindi questo il vestito virale E in teoria dovrebbe Non lo so Dovrebbe essere un shapewear Si chiamano Presente? Dovrebbe essere uno di quelli che fa No perché Devo andare No no è terribile quello che devo dirvi Devo andare A farmi A farmi le unghie Di Naruto però Di Naruto Dovrebbe essere un shapewear Si chiamano Presente? Dovrebbe essere uno di quelli che fa No È un shapewear Mi fa vedere le nostre quasi Volendo sì Volete sapere quanto è costato? Vi dirò la marca Vi dirò la marca Perché mi servite? Perché io quando l'ho visto Tipo Ma c'è uguale all'Ikea E che devo fare? Live in piedi Sì mi diverterebbe un batto Sapete benissimo che a me piace Comunque stare in piedi Misure non Cioè io penso le più grandi Vorrei onestamente Cioè oddio Già questa qua comunque non è enorme Però Crono 3 La migrazione per il nono mese Quindi la accettiamo? No Ma perché? Te lo vendevano De Cristo Raga tutti sti cazzi di tiktok Tutti questi cazzi di tiktok Guarda come ti rende figlio Guarda come ti rende figlio Guarda Cioè non No infatti secondo me Io ho sbagliato taglia Secondo me ho sbagliato taglia Perché qua fa vedere la differenza Fra Osta e È veramente wow No te lo giuro Giorgia È veramente Cioè non lo so Te lo faccio vedere No Puffa ragazzata Non sapevo le trasparente Comunque è veramente ottimo Non sapevo le trasparente raga Non lo sapevo Vabbè non sapeste niente E Ottimo E poi no raga Veramente E poi la gente sui commenti youtube Che mi dice Ciao ragazzi È qui che si succhino i cazzi giganti No oggi no oggi succhiamo quelli piccoli Perché tutti quanti meritano di essere succhiati Raga non so più fare Twitch Non posso Non so più cosa si può dire Cosa non si può dire Quanta confidenza abbiamo raga Non c'è Già questa battuta Non dovevo farla forse Oppure ce ne sbattiamo il cazzo ormai Ma sì ma di che dobbiamo parlare E che bel messaggio Simone Grazie prego eh Ti sei sentito incluso in quello che ho detto 10 anni Non vedo errori Ma infatti secondo me Cioè Dice certe cose che sono giuste Ma in modo estremamente negativo Perché concordo che secondo me Io ai tempi Sono andata tanto Perché raccontavo i cazzi miei Non leggo niente di sbagliato raga Ma male fatte Mente deviata Mi sembra un po' esagerato Aspetta arrivo Nei prossimi eh Nei prossimi x anni Probabilmente noi ci sposeremo Dai diciamoci la verità Su Se no non saremo qua Non lo so No è vero Insomma diciamoci proprio la verità eh Poi Apro Instagram e mi capita un posto sui matrimoni Sui costi dei matrimoni Come prima cosa in la home Abbastanza creepy Non lo so Non capisco Ok Fare la festa si ci sta La festa la farei Però Non lo so Più per questioni legali Forse Conviene Non lo so Cosa ti spaventa un figlio? No 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 Non mi spaventa un cazzo un figlio Semplicemente che io penso che a me piace tanto La mia vita e vivermela io Congela il diavolo e se ti prende la voglia e fai ancora Grazie